Quali sono le novità tra Andrea Zenga e Rosalinda? Qual è la richiesta che Rosalinda ha fatto al suo dolce amore? Siamo pronti a scoprirlo. Nella giornata di oggi la giovane coppia si apprestava a fare una semplice ma romantica passeggiata. Ad un tratto Rosalinda ha chiesto qualcosa al suo compagno. Le sue parole sono state queste. Andrea ha così iniziato a farle mille complimenti. Parole dolcissime e parole romantiche quasi poetiche. Ma Rosalinda capisce subito che qualcosa non va. Andrea infatti sta leggendo queste frasi dolci da un sito, attraverso il suo cellulare. A questo punto la cannavò scherzando invita Andrea a consigliare questo bel sito ai suoi fan uomini. Insomma, una delle solite scenette divertenti che ha fatto sorridere i tanti fan che li seguono. Preferireste vederli sempre seri? Oppure adorate le loro gag divertenti? Facciamo un mini sondaggio. Scrivete nei commenti come li preferite. Per restare aggiornato iscriviti al canale e attiva la campanella.